La criminalità organizzata sfrutta la crisi per attecchire maggiormente sul territorio. Lo stato di necessità della gente diventa l'humus ideale, quanto emerge dalla relazione della Direzione Investigativa Antimafia per il secondo semestre del 2018. Le geografie criminali rimangono sostanzialmente mutate, ma si diversifica l'operatività che si caratterizza per un ruolo imprenditoriale delle organizzazioni. La relazione della DIA parte da dati oggettivi riguardanti la crisi economica che vedono il territorio della provincia di Messina, gli ultimi posti per qualità della vita, nonostante la posizione geografica e il ruolo di collegamento tra la Sicilia e il continente, senza contare l'elevata migrazione, soprattutto di trentenni, verso altre regioni italiane negli ultimi sette anni. Nessun comune della provincia di Messina risulta tra i primi dieci per densità di filiera nel comparto agroalimentare e all'orizzonte non sembrano esserci neanche lavori pubblici rilevanti. A ciò si aggiunga anche la situazione di crisi economica degli enti locali, ben 21 con problemi finanziari e casse asfittiche. Le strutture criminali rimangono sostanzialmente le stesse, con i barcellonesi che presentano un organigramma diviso per territorio nei centri più rilevanti del comprensorio, sui nebro di Tortoriciani e Batanesi, la famiglia di Mistretto organizzata sul modello di Cosa Nostra Palermitana, la zona ionica sotto l'influenza dei clan catanesi che fanno sentire la loro presenza anche nella città di Messina.